Per l'epoca decide di chiudere le carceri, però vorrei dire due cose. Primo, è stata diffusa la falsa idea, così come la storia della sicurezza è una balla, anche la storia del sovraffollamento delle carceri è una balla. È vero che l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il sovraffollamento delle carceri, ma sapete perché è stata condannata? Perché ha fornito i seguenti dati. Popolazione detenuta 67.000 all'epoca, posti carcere 32.000. Ovviamente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che non sono mica galline che ne mettete nelle stie finché ne stanno. Dovete garantire un trattamento decente. Il problema è che sapete come sono stati calcolati i 32.000 posti carcere? Questo è un paese fantastico. Siccome nessuna norma dice qual è la metratura di cui ha bisogno un detenuto, a cui ha diritto un detenuto, hanno applicato la metratura prevista per le case di civile abitazione. 9 metri quadrati per il primo occupante e 5 per tutti gli occupanti successivi. La media europea è di 3 metri quadrati a testa. Siamo l'unico paese condannato per il sovraffollamento penitenziario perché abbiamo dei deficienti che forniscono dati di questo genere.